Vi chiedo subito prima di iniziare ragazzi almeno 2000 like fatemi questo regalo Prima di iniziare il video andate qui sotto e lasciate un bel pollicione in su Anche perché siamo tornati con la SPAL proprio come volevate voi Quindi vi faccio vedere che ascolto anche le vostre opinioni, le vostre richieste Oggi dobbiamo andare a giocare contro l'Ellas Verona e siamo veramente carichi e concentrati Speriamo di tornare alla vittoria anche contro le piccoline Perché con la Roma che abbiamo vinto con il Chievo è stato un disastro allucinante atomico Facciamo giocare Quagliarella al posto di Boriello che è un pelo stanco Ma i titolari ci sono tutti e sono perfetti E poi io ve la butto lì se non sapete cosa fare qui sotto in descrizione Link per andare a seguirmi su Instagram dove faccio le storie più belle di tutta Instagram Quindi se le volete vedere voi sapete già cosa dovete fare Se non le volete vedere sono affaracci vostri I ragazzi stanno entrando in campo, il mister è un pochino teso Perché sa che vincere è molto importante Ma non solo oggi, sempre bisognerebbe vincere, sempre Martin Cacares che fa girare così il pallone Cutrone che va a pressare subito e si guadagna la rimessa Viviani va largo da Lazzari, attenzione C'è ancora Quagliarella che gliela ridà con i tempi giusti Lazzari vuole andare da Cutrone e gliela dà Cacares che fa da muro, da portiere aggiunto E' iniziata subito bene, avete visto? Già il difensore che ce la para sulla linea Come col Chievo tra l'altro, sarà le Veronesi Mi auguri, dentro così, ok? C'è Quagliarella, ci possiamo distendere C'è anche Cutrone che si muove, gliela dà la palla Bellissima, Cutrone in faccia e in bocca C'ha una porta grande così, non esce neanche, non è calcio d'angolo Sì così, sì così Cutrone Dentro, bellissima, per Musonda sul fondo Ancora Musonda, sterza e poi mette il cross brutto Filippe prende palla, personalità, avanza lui Cutrone, largo per Musonda Che può prendere questo taglio in profondità Ancora Musonda, se ne vuole andare, lo lascia sul posto Entra in area, Musonda, ancora lui Serie incredibile di numeri Musonda, allarga tutto Borriello Quagliarella non gioca Borriello Ancora Embalo la mette sul secondo palo Meret con i pugni Musonda, dentro così per Nguguri E poi va dentro per Quagliarella E adesso Quagliarella e Cutrone sfidan tutta la difesa dell'Ellas Nguguri, dentro, così A cercare Quagliarella ancora Cutrone la va a riprendere Quagliarella, largo Così da Nguguri che si inventava addirittura Nguguri porta palla Non gliene frega niente di nessuno Poi sterza, Nguguri La mette sul secondo palo E c'è il gol del capitano E Lazari col 29 Manuel va a esultare Ma Nguguri cosa ha fatto? Nguguri cosa ha fatto? Sembrava davvero a Iaiature qua, ragazzi Qua sembrava davvero un giocatore di livello assoluto Di primissimo livello Tutto il Verona Nella storia del Verona non ha mai avuto così tanti tifosi Ne sono quasi sicuro Nguguri fa una gran giocata Lazari la strozza Un po' per un pelo non la sbaglia Ma la butta dentro La butta dentro Non la prende il portiere Non ce la fa 1-0 per noi 1-0 per la spalla Il capitano Bano e Lazari Cutrone ancora E' l'uomo più avanzato Poi va largo da Lazari Attenzione Lazari che ha segnato Vuole far segnare Ce la fa E ci riesce Chi è? Chi è che l'ha bollata? E' Viviani E' Federico Viviani Che ha fatto tipo 7 gol in campionato Con questo Inserimento Tengnega Visione di gioco Haslitz Gol Fa tutto lui Anche il gioco Viviani Va risultare Con 77 sulle spalle Cucurella Lo va ad abbracciare Fra un po' Gli dà anche un bacio Con la lingua Ed è finita così Speriamo di sì E' il settantesimo E deve essere finita La inizia lui tra l'altro Poi Lazari la crossa E la fa riprendere E la conclude Che giocatore Che player Numero di gol In Serie A Settimo Sesto Mi ricordavo male Cucurella Dentro Per Boliello E poi si ferma Però Cucurella Non vuole continuare Arriva allora Risto A darci una mano Ancora Risto Se ne va Vuole andare giù Vuole andare fino in fondo Risto 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 La palla Che è ancora nostra Guardate chi la va a prendere Vivianaccio Cassares che batte Questa punizione All'ottantacinquesimo Non so perché Ma mi preoccupa Questa cosa Io me le lancio però E me le tiro tutte le sfighe Veramente C'è se penso Se solo ci penso Una cosa si avvera Solo se è negativa Perché in questo momento Sto pensando di essere miliardario Di vincere il Super Nalotto Senza giocarlo Di vincere il Grattevinci Di vincere Alla lotteria Di capodanno Niente Non ho soldi Non ho una piscina Da qualche parte Nascosta in casa Niente Non sono miliardario Ma se penso di prendere gol Da Da Pucciarelli O da Lellas Perché la batte Cassare Sì Allora quello si realizza Quello si realizza Perché la vita fa schifo Non si può vincere una partita E stare tranquilli Zero gol subiti Due fatti No Bisogna soffrire Fino al novantesimo Bisogna scendere con Mattiello E coprire Perché È il novantesimo E non vuoi perdere palla Non vuoi farli ripartire Lazzari Che la stoppa La mette dentro Per Cutrone Non riesce a tirare C'è Viviani Da fuori Prova il tiro La colpisce Boriello La fa ripartire Boriello A saltare ragazzi A lottare Ancora Mattiello Oh no La perde su Embalo Gli diamo L'ultima possibilità Per andare avanti E Mattiello gli entra E gli fa tibie perone Probabilmente L'arbitro non vede Dice che finisce qua E vinciamo noi E me va bene Così però Non è stata molto corretta Come cosa Altri tre punti ragazzi Si vola Si macinano qua Qua non ci si risparmia più Qua si vuole vincere Qualsiasi partita E ora ci sto Andiamo avanti Giochiamo col Benevento Non ci penso neanche Non ci voglio neanche pensare Tutto quello che potrebbe succedere Intanto il capitano E il giocatore del mese Siamo tornati i quinti E ragazzi Adesso l'Alassio Il Toro L'Inter Iniziano a tremare un po' tutti Ma per farlo Bisognerà Non inciampare In questa trappola Chiamata Benevento Titolari Super affidabili Super pronti Super disponibili E allora si va Super giocare Pietro Iemmello Vuole provare a sfondare Ancora Iemmello La mette malissimo E ormai Armenteros non fa gol Sono già partiti In maniera troppo carica Benevento Adesso sarà che si sono esaltati Perché in Serie An Già ha fatto sette punti Non lo so Lazzari comunque Come un treno Sfreccia sulla corsia di destra E poi la mette sul secondo Per Musonda Che la stoppa E tira Non fa gol Viviani e Lazzari Lazzari la mette Bellissimo ancora sul secondo Ancora noi possiamo avere la possibilità Perché Armenteros la stoppa male E c'è Felipe Che resiste alle cariche E poi l'indietro Dai suoi compagni Sa che può sempre contare su di loro Va da largo Da Nuguri Che mette la palla dentro Per Cutroni Che non ha ancora segnato Da quando si è tornati E l'occasione giusta E questa qua L'occasione giusta Se la crea Con un numero In mezzo all'area di rigore E ci porta in vantaggio 1 a 0 Proprio come c'è scritto 10 Dietro 10 Sulle spalle Se ci metti il meno E 1 a 0 Proprio come risultato Di oggi Brignoli mi dispiace Hai preso gol Hai preso gol dal super Cutroni Quindicesimo gol In Serie A Sorpassa Boriello Vai seguire Di Bale Goin E bolla Ma soprattutto La spalla E in vantaggio E rischia di portare a casa Altri 3 punti Anche oggi Cutrone Ancora Dentro per Boriello Attenzione Boriello Vede Viviani Che si propone Sta diventando veramente Un giocatore a tutto campo Viviani Ancora lui sterza Non riesce a prendere la palla Dopo E se la fa rubare Viviani Perché sta facendo l'esterno Ragazzi me lo spiegate Che chi gliel'ha detto Cutrone Gliel'ha detto Cutrone Gliel'ha detto Cutrone Gliel'ha detto Patrick Con questo tiro fortissimo L'ha in alto Imprendibile Va a risultare Siamo a 16 Questo ragazzo Quest'uomo Che ho strapagato Ha già fatto 16 Gol In Serie A Questo da fuori Oddio che bello Nel set da fuori area Questo è veramente bello Questo segnatevelo Perché è veramente Superlativo Giù di testa Chissà che non riesca A portare a casa Il pallone oggi Con una bella Treplettazza Iemmello Dentro così Salomon Meret Ancora Tirato come Pucciali Poi non ci credo Si picchiano da soli I miei Cosa succede Si possono Per questi gol Così Cutrone Vuole allungare la squadra Vuole portare su I suoi compagni Perché comunque Tra un po' Si va nello spogliatoio Riposarsi per l'intervallo Dentro per Lazzari La palla Bellissima Era crossata In modo da andare a fare gol Felipe Dentro così Dopo che ha recuperato palla Boriello Vuole andare largo da Lazzari Ce la fa Ancora Lazzari 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 Sul secondo palo Viviani ci arriva E trova il 3-0 Il che vuol dire Che dovrebbe essere Una partita indirizzata Su binari Ben delineati Ben definiti Ben positivi Speriamo che sia così E soprattutto È riuscito a segnare Ancora Quell'uomo Quell'uomo segna ancora Si butta dentro La centrocampista Come se fosse una mezzala Invece un vignano Avanti alla difesa Ma 7 gol da centrocampista Chi è? Nocerino con Ibra? Ma cosa sta succedendo? Aia Si strurlano Si scontrano tra di loro E poi Gnoguri È immenso Sta lì E adesso c'è un 3 contro 3 Potentissimo Gnoguri vuole andare dritto E poi Vuole aprire in questo modo Per Quagliarella La palla di Pino Dentro per Lazzari Che può arrivarci Sul secondo palo La tripletta di Cruturone Non si realizzerà Forse non è detta l'ultima parola Perché siamo ancora qua Lazzari Vuole crossare Ancora per Cutrone Brignoli Sarebbe stata una bella soddisfazione personale Per Patrick Portarsi a casa il pallone Perché veramente Quando è in forma Quando è in giornata È un giocatore Insuperabile Che la butta dentro Non dico ogni pallone Ma quasi E ce la possiamo ancora fare Perché c'è Quagliarella Vuole andare Largo da rista Attenzione 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 Si può fare Si può fare Si può fare Si fa La tripletta Di Patrick Cutrone 4 a 0 Benevento La manita E tutti a casa Tutti a casa Finisce qua La spalda a spettacolo La spal Ha un rullino di varcia Delle ultime 4 partite Contra vittorie Una media da Scudetto Spal il campione d'Italia Tutto è possibile Non è vero Non è vero Però Bellissimo gol Bellissimo assist di Rizzo Che arriva fino al fondo Solo per servirlo E Cutrone col mancino La butta dentro Per il 4 a 0 finale Al novantesimo Diciasettesimo Gol in campionato Finisce Finisce Non c'è più tempo Datemi il pallone Che questo lo prendo Lo metto lì Lo firmo Patrick Cutrone Oggi cosa ne abbiamo? 14 gennaio 2018 Un punto dalla Lazio Due punti dal toro Cinque punti Dall'Inter E mentre Terminiamo L'allenamento Andiamo a vedere La prossima squadra Che ci capiterà Nel nostro cammino Verso La scalata Che ci potrebbe portare Addirittura in Europa Con la spal Alla prima stagione A modalità leggenda Sarebbe veramente Qualcosa di grosso Bentancur Non rompere Non rompere C'è il toro Scontro diretto Ragazzi Ci si gioca tantissimo Ragazzi Cerchiamo di arrivarci A quei duemila like Per favore Mi importa tantissimo Vedere che arriviamo A duemila mi piace Sotto questo video Dobbiamo prepararci al meglio Cutrone Potrebbe addirittura Arrivare secondo In classifica Cannonieri Andare a battere Igoin E a meno sei da Di Bala Sognare non costa nulla Anche se in realtà Mancano solamente Due partite di campionato E la classifica Parla chiaro Matematicamente Possiamo ancora Arrivare secondi Sopra l'Inter Il toro Sarà un crocevia Importantissimo Ragazzi Importantissimo Sopra l'Inter